1.072.194 dosi di vaccino somministrate in Puglia. L'ultimo aggiornamento relativo alle inoculazioni di vaccino anti-covid pone la nostra regione al quinto posto in Italia come velocità di somministrazione del siero. Entrando nel dettaglio delle percentuali di persone vaccinate, gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono l'82,9% degli aventi diritto, il 50,4% ha anche ricevuto la seconda dose. Per il decennio 79-70 anni la percentuale invece del 45%. Nella Asle di Bari sono partite giovedì pomeriggio le prime vaccinazioni domiciliari per i pazienti fragilissimi affetti da patologie degenerative come SMA, SLA, Tretaparesi, Spastica, Neonatale oltre che da allergie importanti. L'attività vaccinale, cominciata nei comuni di Ruvo di Puglia e Bitonto in considerazione della elevata fascia di rischio che riguarda questi pazienti, ha necessità di essere seguita e curata da un rianimatore vista l'estrema fragilità degli stessi. L'equip mobile continuerà le somministrazioni domiciliari per questa tipologia di pazienti con l'obiettivo di concluderle entro la fine di aprile. Nella Asle BT sono 10.759 le dosi di vaccino distribuite a oggi ai medici di medicina generale per la somministrazione ai pazienti fragili e alle over 80 che hanno chiesto la vaccinazione domiciliare. Sul territorio della Asle BT continua la vaccinazione dei cittadini prenotati dei pazienti oncologici e oncoematologici come da programma. Entro la settimana si prevede di vaccinarli tutti per poi passare ai conviventi e ai caregiver. All'ospedale di Andria anche giovedì sono stati vaccinati i cittadini allergici per i quali è stato adottato un protocollo di garanzia alla presenza di medici rianimatori.